Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot.chiocciolaocchiopavese.it Che riparti con noi, che riparti con occhio pavese. Costruito nel 1329, Cavola Gozzo va a costituire un'opera idrica la cui funzione in passato era quella di portare acqua al fossato del castello di Voghera. Ma Cavola Gozzo da molti anni rappresenta anche quella parte di fogna non interrata che si snoda tra le vie e i campi di Medassino, raccogliendo le acque della fognatura di Rivanazzano Terme e di Voghera. Partendo all'altezza del cimitero, in via Postiglione, una diga artificiale delimita questa fogna aperta. Ma spesso succede che la zona cimiteriale si allaghi in caso di temporali, in quanto la diga artificiale della zona non riesce a contenere tutta l'acqua che esonda e allaga i campi, satura dei residui della fogna di Voghera, creando non solo problemi di allagamento ma anche di igiene. Da quel punto l'acqua prosegue il suo percorso andando a sbattere contro l'autostrada, senza però invaderla, e arrivando fino al depuratore dell'ASM in strada Forciona, situato proprio dietro l'autostrada, dove l'acqua viene qui incanalata e depurata. Non tutta però. Infatti, in caso di allagamento, l'addetto ASM chiamato di intervenire deve azionare manualmente le paratie presenti e consentire all'acqua di defluire e di procedere nel suo percorso, senza passare attraverso la depurazione. Poco più avanti, l'acqua viene incanalata in una corsia di emergenza costruita recentemente e qui incontra le acque già state depurate. Nel fiume Staffora andranno a convogliare quindi sia le acque depurate sia quelle non depurate, in un procedimento che non si sa quanto possa essere ritenuto legale. Nel 2011, dopo l'elezione di Carlo Barbieri, il Comitato Spontaneo Medassino, con portavoce Luca Ottini, si era riunito in una riunione straordinaria per prendere una decisione risolutiva in merito a Cavolagozzo. Era stato stabilito che due potevano essere le soluzioni per risolvere il problema lagamenti. La prima, costruire un collettore nuovo. La seconda, fare un bypass che permettesse di deviare le acque di Revanazzano Terme e di Voghera da Medassino. Tuttora non è stata ancora presa una decisione in merito. Il prezzo richiesto per un nuovo collettore si aggirerebbe intorno ai 600.000 euro, ma il Comitato ritiene che potrebbe essere più utile un bypass. Da parte dei soggetti interessati, tra cui Pavia Acqua, Regione Lombardia e Comune di Voghera, c'è stato come sempre un gioco a rimbalzo delle responsabilità. Lo stesso portavoce, che ha già evidenziato in passato i disagi causati da Cavolagozzo, ha sottolineato come i cunicoli che contengono le acque dovrebbero essere di dimensioni ben maggiori rispetto alle loro attuali capacità, per contenere più acque possibili ed evitare così continui allagamenti. Il Comitato ha anche fatto notare come sotto le vie principali di Voghera, come Via Emilia e Via Cavour, corre un'enorme quantità di acqua che passa dai canali di Cavolagozzo, tanto che si ipotizza che il Duomo stesso potrebbe subire dei danni in futuro. L'unica cosa che impedisce all'acqua di arrivare fino a Via Emilia nei momenti di allagamento del cavo è la rotonda di Via Nenni, che accoglie già da sé una considerevole quantità di acqua quando allagata, facendo così la spugna. Ma la situazione già critica vede anche altre zone coinvolte, come quella al di là della tangenziale, dove l'acqua ristagna e non riesce neanche a defluire. In tal merito, lunedì 5 dicembre 2016, alle ore 21, nel Salone dell'Asilo in Piazza Pavesi, si terrà un confronto sulla gestione del Cavolagozzo, a cui parteciperanno il dottor Matteo Pezza, presidente di Pavia Acque, l'ingegnere Marco Chiesa, direttore generale, l'ingegnere Lorenzo Ferrandini, direttore tecnico, e l'ingegnere Nicola Tizzoni di ASM Voghera. Tutta la cittadinanza è invitata.